Ciao a tutti, oggi prepareremo la mousse alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 3 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono fragole, panna fresca per dolci messa 45 minuti in congelatore, zucchero, gelatina in fogli ammollata in acqua fredda e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte lo zucchero. Senza lavare il boccale abbiamo diviso lo zucchero in due parti, 30 grammi. Le metteremo subito all'interno del boccale. Posizionare la farfalla. Versare la panna che deve essere ben fredda. Ed azioniamo il bimbi senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. fermiamo il bimbi. La panna è ben montata, mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, senza la farfalla, mettere lo zucchero. e le fragole. E le facciamo frullare per un minuto a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Strizzare la gelatina e scioglierla in un pentolino con il latte. Dopo aver sciolto la gelatina, versarla nel contenitore con le fragole. E far amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Versare il composto di fragole nella ciotola con la panna. ed amalgamare bene con la spatola. Trasferiamo il composto in uno stampo in silicone. Riporre in congelatore per almeno 3 ore. La mousse è pronta. Rimuoviamola dallo stampo e serviamola. Mousse alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.